Ciao ragazzi, un nuovo video, oggi siamo a fare il sopralluogo per lo spettare faremo un martedì con i patti quindi questo è l'inizio del video e abbiamo anche le due ragazze che faranno con me una piccola esibizione e stanno provando un po' com'è a pattinare in questo asfalto, non è proprio il massimo della bellezza però dai, diciamo, potrebbe andare peggio, adesso monteremo dei coni e vedremo un po' quanto sono impedite Vero Mati, vero Sere? Come funzionate? Ok, quindi, allora, funzioniamo così, così facciamo anche un po' di spoiler prima Facciamo finta è questa mucca, bacca, in miniatura, si ha l'inizio, ok? Quindi, esatto, da qua partiamo la quinta, voi prendete i coni luminosi e li posizionate, fate vedere dove li posizionereste Tanto Ok, esatto, voi avete questa qui sicura, quindi questo penso che di sicura l'avete Se poi avanza, io li posirei sempre qua, perché nel centro è sempre faccio schifo la scuola Quindi io starei sempre su questa qua, magari un po' più vicino a lei Sì, tu sia cerchio che tu qua, ma semi o tutto cerchio? Questa è uno slalom ora, quindi monti uno slalom, in un minuto Vediamo, esatto Esatto ragazzi, mi sono accorto che mi manca una parte della clip che avevo registrato per fare questo video Perché non so, probabilmente non l'ha registrata le camera e... Vabbè, ve la racconto un po', dopo aver provato le ragazze di Firenze lo spettacolo Stiamo andando a fare un po' di friskate in paese e vi lascio lì per ora Ehi ragazzi, stiamo a fare un po' di friskate così, così non so neanche se uscirà o non uscirà Perché se muoio potrebbero uscire Nel momento facciamo un po' di friskate al giro per il paese con i ragazzi di Firenze, con Serena e Matilde Ho avuto la brutta idea di farmi saltare, letteralmente Quindi io mi sdraierò e loro mi salteranno Spero di riuscire a riprendere questa parte anche finale E niente, non so perché ho avuto questa bruttissima idea Alessia vuole saltare gli scalini Vuole saltare gli scalini Alessia? Sì, ma non riesco a girare Ah, mentre io voglio fare questa pazzia, Alessia ne vuole saltare un'altra ancora di più Vuole saltare gli scalini Guarda, guarda Siete strettissimo Uuuuh, lo rifai perché ho ripreso Voglio provare, vai, vai Stai lì però Stop Anche io sto qua perché è abbastanza divertente la cosa Ce la fai riprendere? Sì Sicura? Sì, forse Ah Sì 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 Ecattolo, scrivo un commento e farò vedere il salto mentre le ragazze mi saltano E altra cosa importante Fatemi sapere com'è questo piccolo intro con questa piccola spoiler dello spettacolo di fuoco E ovviamente uscirà il video completo Dello spettacolo di fuoco Quindi spero che vi possa piacere Detto questo vi saluto Mi ricordo di iscrivervi al canale E attivare la pannellina Mi ha piaciuto il video Ciao ragazzi